pensi davvero che ci si conosca meglio su internet che faccia a faccia le facce possono distrarti ma non c'è niente di meglio che guardarsi negli occhi è tutto quello che ne consegue non lo so la gente si incontra qualcosa di superficiale la colpisce e riempie il vuoto con quello che vuole credere perché sei così ossessionato mi rifiuto di credere che solo perché ti sei accorto di avere un bel viso sei appena uscito da una relazione lo sai che le cose vanno più in profondità di si tratta di questo tu e cameron sono stato io ad andarle dietro forse stavo solo riempiendo il vuoto forse forse la sua prima reazione è stata giusta eravamo solo due persone che erano vicine si trovavano attraenti e io mai ma paranoia tu sentivi qualcosa di reale e anche lei non cercare di ritrattare mi presti la macchina no grazie a tutti